eccoci qua eccoci a storia in scatola iniziamo questa ultima puntata 30 il 30 di ottobre siamo in una zona diciamo un po così un po di di tenebra non solo perché c'è la tenebra del delle delle ricorrenze dei morti per non parlare di halloween ma il cuore di tenebra c'è venuto dopo questo lockdown perché c'è il buio vedete dietro di me c'è il buio tra l'altro anche un buio finto quindi più buio di così proprio c'è anche questa luce posticcia dietro di me beh oggi c'è stata una piccola rivoluzione a genova e sicuramente chi ha partecipato può dire di aver infranto le regole in maniera civile e in maniera assolutamente utile perché perché questo tipo di manifestazione assolutamente clandestina ha portato dei risultati eclatanti tanto che l'assessore alla cultura è sceso in piazza e ha parlato ha parlato con noi e non solo vedremo che ci sono degli ottimi risvolti chi c'era in piazza tutte le operatrici e gli operatori dello spettacolo c'erano veramente tantissime persone attenzione io dico tantissime perché giustamente c'era anche un numero limitato per la sicurezza però c'era dal tecnico luci alla costumista allo scenografo al regista all'attore a chi si occupa dell'ufficio stampa beh quanti siamo in italia sono circa 500 mila ma è una stima molto 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 relativa perché perché ai noi purtroppo c'è ancora tanto lavoro nero in questo settore tanto che quest'anno per farvi dare un'idea si è dato un contributo così una tantum a chi aveva sette giornate di lavoro beh io penso che sia veramente preoccupante questo questo tipo di eh situazione non è solo il teatro in crisi eh ci sono tutti gli esercenti ma non sono solo gli esercenti c'è una situazione del lavoro in italia eh malata distorta e allora oggi ne parleremo nel frattempo c'è anche un commento e c'è Daniela Salvo che saluto ciao Daniela mi fa piacere che ci sei anche tu a storia in scatola e eh ne vorrei parlare assolutamente con ehm con 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 una persona che oggi era in piazza ma che ha fatto un percorso da da marzo fino ad oggi eh straordinario che veramente eh come suo stile ha lanciato il cuore oltre all'ostacolo ma poi lei è una grande trascinatrice anzi io la chiamerei un po' una propulsina eh c'erano i propulsori di folle una volta no in alcuni in alcuni ehm monumenti ci sono ancora pedagogo educatore poi propulsore di folle beh la vogliamo conoscere ma certo la conosciamo lei è la la grande Emanuela Rolla eccola qua ciao Manu Buonasera ciao Raffa grazie di tutto Allora grazie a te perché comunque oggi è stata una giornata molto lunga sia nel nel nello svolgimento ma anche nella preparazione ce ne vuoi parlare come hai vissuto nella nell'organizzazione di questo evento perché tu sei una delle organizzatrici questo periodo questo questo nuovo lockdown allora questo nuovo lockdown guarda lo vivo peggio del primo secondo me e lo viviamo tutti peggio del primo perché è una risonanza perché avevamo appena ripreso no a mettere speranza come dire ci eravamo di nuovo a facciate prende una boccata d'aria e quindi ritornare sul proprio lavoro cercando di essere ottimisti di programmare la fatica di programmare perché il nostro lavoro non è che fare che ti ho su una saracini di scatole locale possa avviarla a che fare con programmazione e questo no questo blocco così è faticoso è molto faticoso e devo dire che lo subisco più del primo credo che c'è un'area più di ci blocca tutti più del primo per lo credo si blocca qua ma non la volontà di di interagire di fare infatti facciamo facciamo anche perché la liguria aveva delle a delle restrizioni no toste rispetto alle altre regioni quindi anche il fatto di non poter manifestare ufficialmente si accusa sul proprio corpo poi si trovano modi intelligenti rispettosi alternativi ma ufficialmente c'è il divieto di manifestare detto questo questa mattina siamo riusciti con grande intelligenza maestria a scendere in piazza dimostrazione ancora una volta che le lavoratrici e lavoratori dello spettacolo hanno un grande senso di responsabilità come hanno dimostrato in tutti questi mesi e quindi sappiamo tenere una distanza sappiamo tenere la sicurezza di piazza sappiamo stare in mezzo alla gente nonostante è una situazione molto contingente fatti cosa per l'intera regione intero paese perché tutti siamo affaticati tutti siamo molto preoccupati non è più una categoria tante categorie tutte diciamo certo infatti insieme alle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo ci sono tutte le esercenti e gli esercenti che anche loro si vedono con con le gambe mozzate da delle leggi che non guardano in faccia nessuno ma è chiaro che alcune scelte bisognerebbe farli con i numeri alla mano e i numeri alla mano visto che io vedo dietro dietro le quinte un leone è una un vecchio leone che lui la zampata la da sempre è chiaro guardando con i numeri alla mano in italia positiva al covid ce n'è stato uno a teatro cioè c'è stato un caso di covid rispetto a tante altre diciamo strutture ora la scuola in maniera eclatante però ci sono tanti stati tanti locali tante strutture tante che invece erano assolutamente impreparate a poter convivere con questo virus perché col virus ci dobbiamo convivere io sono stato a teatro sono stato al cinema ci siamo stati anche insieme johnny way ha dato questa apertura con lo spettacolo ormai sembra storia 19 giugno è certo 19 giugno primo teatro aperto però da lì alla fine c'è stato un lutto quando c'è stato l'ultimo giorno sabato scorso l'ultimo giorno di spettacolo il pubblico era era commosso perché anche io sono andato quella settimana teatro quasi come il bisogno di respirare un po' di di socialità anche oltre alla bellezza beh dietro alle quinte lo voglio invitare perché eh è con noi il grande il nostro giornalista eh Luigi Furini ciao Luigi oh ciao ciao mi senti certo ti sento hai cambiato ciao Emanuela no ovviamente tecnologico a casa mia eh perché adesso la mattina tanto ormai dobbiamo vivere in casa no e quindi eh la mattina ho fatto un'ora eh con una radio e raccolto storie di 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 calcio e di sport storie di cent'anni fa ehm ma poi sarebbe bello un giorno quando ci vedremo Raffaele perché ormai guarda c'è delle storie bellissime eh magari le metti insieme e esce uno spettacolino teatro davvero guarda eh ci sono delle storie di dell'altro secolo io eh riscuote successo questa rubrica tutti i giorni da mezzogiorno a luna va in televisione perché mi hanno spiegato che su Sport Italia c'è una roba che non si capisce come ma io visto che ti chiedo una cosa perché poi c'è un collegamento con la nostra regione Liguria ma allora ma la storia di Garriccia tu la sai? Garriccia? Garriccia? Eh cosa fatti? Eh beh lui aveva una gamba più corta delle altre. Ah sì sì lo sapevo sì 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 lo sapevo beh non tantissimo eh eh lui aveva anche due centimetri eh ma adesso ci sono i tacchetti che eh eh bilanciano sì 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 Garriccia perché poi ieri ha compiuto 80 anni Pelè oggi ha compiuto 60 anni Maradona però di Pelè e di Maradona a tutti hanno scritto tutti scrivono ci sono più libri di libri di libri di libri ci sono eh ci sono ehm eh di umili di umili eh sportivi no? E che non hanno mai avuto la gloria eh eh oggi raccontavo dopo dopo ti dico eh una roba che fa il collegamento perché il tema il tema oggi aspetta no è collegamento con la mia sui numeri del coro ok allora io ti faccio il collegamento il collegamento è che Genova oggi era completamente eh c'era il veto di poter manifestare tu lo sai che a Genova non puoi manifestare? non può perché c'è l'assemblamento eh ho capito ma solo a Genova cioè nel resto d'Italia puoi manifestare ha disposto Toti? è certo ma le manifestazioni violenti sono vietate dappertutto eh non è che perché ma non è che noi siamo violenti eh ma quali violenti? ma quali violenti? ma un tipo di manifestazione pubblica ordinanza 72 2020 eh allora noi nonostante questo eh nonostante questo e tra l'altro guarda un po' c'è anche Daniela Salvo che dice bellissimo vini in prosa eh tanto questo grazie eh grande grande spettacolo allora quello che dico io è oggi noi operatrici e operatori dello spettacolo abbiamo manifestato nonostante tutto Luigi c'era la polizia che ci guardava dovevamo stare eh distanti due metri uno dall'altro dovevamo camminare guarda la polizia non è niente è quando prendi mano la rivoltella che è di pericolosa finché la polizia ti guardi un poliziotto mi ha guardato ma fa niente poliziotto ti guarda se io di cosa avevo paura poi tu parlirei io se di cosa avevo paura mica delle malangallate io ho paura della multa ah è bene perché no bene le altre fanno peggio eh a prendere il manganello di testa la multa poi ti passa il nervoso al manganello ti resta il segno per un bel per un bel ma Luigi tu hai preso delle manganellate? no ci sono andato molto vicino io sono molto più altra di voi quindi io non nel 68 perché io sono del 54 avevo 14 anni però nei primi anni 70 andavo già all'università erano anni difficili c'erano molti casini andavo in piazza a Milano alla statale erano più giorni che ero occupata che no quindi la polizia in sette di guerra c'erano dei giorni molto complicati ci sono state una volta c'era la manifestazione c'era uno c'era un mio amico che era un matto e c'era un comizio del movimento non voglio parlare di politica un comizio diciamo di un partito ed è arrivato questo deputato tutto vestito di bianco di bianco la giacca i pantaloni la cravatta tutto di bianco e qui tu qua sali sul palco tutto tronfio eccetera eccetera allora lì è tirato fuori e lì sembra un rivoluzionario sì e allora allora mio amico che era lì a mio figlio ha detto io quello lì lo butto nella fontana cioè lui si era fissato che quel non doveva parlare quello lì ma non solo doveva impedirgli di parlare lo prendono e buttalo dentro la fontana tutto di bianco oh alla fine alla fine alla fine ce l'abbiamo fatta nella fontana è chiaro qualche cazzotto è partito perché allora che tu prendi uno e butti nella fontana perché i suoi sostenitori volevo impedire la polizia è intervenuta ha dato un po' di cariche ci siamo nascosti in un orto c'era un po' di fango ci siamo nascosti al buio di sera abbiamo lasciato passare nascosti dentro in un orto là in mezzo alle verdure c'era un orto di uno e ci siamo accovacciati lì abbiamo aspettato che passasse tutta la bufera eccetera perché si era fissato di buttarlo nella fontana capito allora io dico una cosa cioè Manu Manu hai presente quello che dice io avevo un amico che rubava le macchine per la ruota l'uomo eri tu basta dai su guarda con che faccia che faccia a casa comunque oggi c'era una fontana ma nessuno è caduto dentro e nessuno è stato buttato dimostrazione ancora una volta che le lavoratrici i lavoratori dello spettacolo hanno una grande cura delle persone di se stesse del proprio ambiente e quindi sanno gestire con grande senso di responsabilità come abbiamo dimostrato in questi mesi anche se voglio dire una cosa quei dati lì che sono riportati dall'Agis dell'unico spettatore positivo parliamo di spettatori perché invece dentro i teatri la situazione è diversa perché l'orchestra e a molte orchestre tipo l'orchestra dell'all core della Scara di Milano ha dovuto chiudere prima di questo del decreto perché erano positivi altre produzioni sono state sospese quindi invece ci vuole anche una delle tematiche dei temi che stamattina si richiedeva a livello nazionale nelle altre città dove hanno manifestato con i sindacati e tutto la tutela e il rispetto della propria tutela del lavoratore dello spettacolo e del teatro sul palco e fuori dal palco perché i protocolli di sicurezza non solo per il pubblico ma per gli operatori attivi sul palco perché qui c'è ancora un po' di lavorare io penso una cosa io penso una cosa che voi avete mille ragioni perché naturalmente il teatro soffre dalla prima chiusura poi c'è stato po' in Stato qualcosina si poteva fare ma distanziati eccetera all'aperto e poi subito è venuto questa seconda ondata ma secondo me nel prendere queste misure il governo non vuole colpire il teatro il cinema per dire cioè o i ristoranti 18 eccetera loro vogliono dire state a cioè meno gente gira meglio è allora toglie toglie è come un castello di carta dove togli tutte le occasioni per uscire allora lo stadio no il teatro no il cinema no i bar e i ristoranti chiudono alle 18 no se loro dicono se togliamo tutte le possibilità di svago di quindi di assembramento di riunione delle persone non che il teatro contagi non che il cinema perché allora a maggior ragione lo stadio è l'aperto loro dicono meno gente gira assolutamente si è sulla mobilitazione è sulla mobilitazione ma questo denota anche che non sanno gestire e questo è un altro argomento però quello che dico se tu mi chiudi tu mi paghi perché io se non posso essere possibilitata a vivere è qualcuno questo indennizzo cioè se io rompo la macchina a qualcuno crea un danno c'è un'assicurazione che paga quindi se io in questo momento subisco un danno io come tutte le altre categorie infatti non è un sostegno è un indennizzo perché subiamo siamo lesi in questo momento perché io non posso lavorare quello che loro chiamano il ristoro deve arrivare il ristoro deve arrivare in proporzione non so che cosa a quanti spettacoli quel teatro ha tenuto durante l'anno scorso a quanto è incassato durante l'anno scorso ci saranno dei parametri per cui in base a quanto ci ha rimesso diciamo così magari non al 100% ma invece invece questo si perde in mille casini molto spesso c'è anche un problema Luigi che lo dico anche Emanuela perché poi un po' il tema cruciale è questo nel senso che se noi lavoriamo in una dimensione dove si parte poi c'è una chiusura allora ti do un piccolo no un piccolo gettone perché t'ho chiuso poi tra un mese ripartiamo poi però invece richiudiamo e ti do un piccolo gettone qui non stiamo chiedendo 600 euro la gente non è che non paga l'affitto non paga la luce paga l'affitto e la luce la paga piena nel senso che se uno ha un mutuo da 600 euro e gli arrivano 600 euro in 4 mesi come fa? Ah no certo è un problema diffuso di italiano ma anche in Francia in Germania in Germania sono più organizzati hanno meno burocrazia hanno un sistema più semplice e allora riescono meglio a farlo da noi ti chiedono il protocollo c'è il protocollo per tutto io penso che fra due anni di questo passo se non c'hai il protocollo non vai più neanche a comprare il pane vai dal panettiere mi dà due chili di pane e c'è il protocollo no e allora no perché ormai c'è il protocollo per tutto noi siamo il paese dei protocolli delle leggi delle sottoleggi delle norme per cui ci sono tanti furbi perché adesso io conosco dei ristoranti che hanno fatto l'ultimo scontrino del 51 ragazzi il 51 tanti anni fa adesso lui dice ah ma io non ce la faccio tirare avanti ma tu non è che l'anno scorso non hai fatto gli scontrini e hai dichiarato 15 mila euro sono degli ristoranti delle pizzerie che io vedo sempre pietre tutte le sere che poi dichiarano 15 mila euro di utile all'anno o fatturati risibili e poi dire adesso quindi è un problema Luigi sai che se non sbaglio ti sentiamo Conte il presidente del consiglio ha detto che sostiene però chiedendo tutti gli scontrini quanto hanno dichiarato l'anno scorso cioè come può sostenerli solo sapendo cosa è stato dichiarato allo scontrino l'anno scorso quindi sai che ridere qua adesso cosa succederà ebbè certo perché se un teatro se un teatro l'anno scorso ha staccato dico 10 mila biglietti e ha incassato 8 euro ti darà un ristoro in base di 10 mila biglietti se il teatro ne ha staccati 5 mila perché 5 mila le ha fatti in nero adesso dico la bestemmia è chiaro che poi i conti non tornano non tornano ma come noi abbiamo 120 miliardi di euro all'anno di mancato imponibile fiscale voglio dire non è una cifra sono 10 miliardi di euro all'anno che mancano dove vanno a finire Luigi ti voglio chiedere anche una cosa perché io sono parzialmente d'accordo nel senso che l'esercente io parlo io credo che esistano anche esercenti onesti purtroppo a volte quell'attività quel bar rimane aperta perché non c'è altra opportunità per chi vive all'interno di questo bar di esercizio commerciale e purtroppo succede che molto spesso gli scontrini fatti tutti sono pochi ma oggi non è più come una volta che dici dichiaro zero è zero no oggi ci sono gli studi di settore sì 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 ecco allora quindi e sugli studi di settore mi voglio un po' fermare perché molti operatori dello spettacolo fanno fatica a far risultare 30 giornate all'anno di contributi perché perché purtroppo molto del lavoro non viene pagato perché purtroppo molto del lavoro viene pagato in nero e questo è un male allucinante quindi secondo me anche guardare i numeri a volte si rischia di farlo e lo so e però poi quando devi prendere le decisioni devi guardare i numeri perché se stiamo al racconto di ciascuno non ce la fai poi devi mettere sui numeri fare le somme le divisioni e dire facciamo così perché se no senza numeri sul tavolo poi ci sono i furbi ci sono ci sono è un paese così questo è difficile che lo cambiamo mi facevano ridere in primavera quando sui balconi c'era lenzuolo che ho scritto ce la faremo e poi usciremo migliori magari ce la faremo sicuramente ce la faremo ma migliori no non ce la facciamo non siamo migliori perché perché poi quando c'è scatta l'egoismo scatta la guerra fra i poveri scatta l'invidia no perché quando poi ci sono tanti soldi ma tu ne hai presi di più io ne hai presi di meno però tutti abbiamo preso una bella fetta una fetta ci siamo arrangiati quanti soldi sono o meno è chiaro che l'invidia del povero è una roba brutta e quindi basta rileggere i miserabili no il to go e quindi poi la guerra fra poveri è micidiale perché dopo trovi sempre quello che che si accontenta di meno va a fare e quindi adesso stiamo noi non dovremmo stando ai numeri mondiali essere in questa condizione qua perché siamo il paese che ha la ricchezza privata più alta del mondo se dividi la ricchezza totale per il numero di abitanti gli italiani sono la popolazione più ricca del mondo non c'è neanche la California che ci bate che comunque considerato come stato a parte ma davvero sì ma questa ma abbiamo abbiamo circa abbiamo circa 6-7 milioni di seconde case fra il mare in montagna in Liguria lo sapete bene quante seconde case ci sono di milanesi di lombardi di piemontesi eccetera abbiamo 2 mila miliardi di liquidità nei strumenti finanziari che possono essere BOTO BTP azioni altri fondi di investimento eccetera abbiamo una propensione di risparmio molto alta molti soldi sono termini sui conti correnti questo la Banca d'Italia lo vede perché le banche comunicano alla Banca d'Italia l'ammontare dei risparmi sui conti correnti quindi è un conto facile da fare e poi che sia mal distribuito la ricchezza distribuita femminile la ricchezza c'è in economia c'è lì perché il delia non c'è stasera c'è un indice che misura che va da 0 a 100 dove dice che a 0 sono tutti i ricchi uguali e a 100 c'è uno ricco e tutti gli altri poveri dovrebbero stare a metà l'indice in modo da consentire la distribuzione più equa delle ricchezze ecco però sono tutti numeri che comunque il governo sa il ministero sa eccetera eccetera io sarei invece Luigi per una equa ridistribuzione della disperazione perché così almeno saremo un po' meno disperati alcuni e saremo un pochino più disperati allora ci sono degli amici che ci salutano poi dico altre cose tanto c'è Enzo Paci che ciao Enzino guarda un piacere che ci sia anche tu caspita anche lui come noi siamo un po' tutti nella stessa barca però attenzione perché allora è vero che non siamo migliori magari di un anno fa però siamo diversi io ho visto gente passeggiare a fianco che forse mai avrei visto passeggiare nel senso che in questa sembra di essere in un girone dantesco no? no? e questa cosa è vero? è stato fortissimo guarda che come al solito nella siga che abbiamo perché eravamo l'unica ragione a non poter scendere in piazza però siamo scesi in piazza con idea semplice ma molto immediata e molto di impatto si aveva all'inizio quella sensazione di stare in un girone dantesco è vero? è una sorta di limbo dove tutti vanno ma non si sa dove quello che però posso dirti Luigi che a un certo punto nonostante noi siamo andati contro una legge della regione un assessore è sceso è sceso dal palazzo e vi ha ricevuto vi ha incontrato ha passeggiato con noi adesso devo mettere mano a portafogli e dare i soldi adesso lei è l'assessore alla cultura ora bisogna capire se fosse venuto l'assessore al bilancio forse sarebbe stato meglio ne ha fatti lui aveva disponibilità l'assessore al bilancio è Totti ma capita ma proprio Totti deve essere l'assessore al bilancio il presidente si è tenuto sanità bilancio e carica di presidente al momento ha tre cariche il brutto sarà che finito tutto questo perché un giorno o l'altro finirà e spero domani però finirà col vaccino finirà le regioni lo Stato avrà speso tanti di quei soldi che poi ce ne saranno meno da distribuire per aiutare a fare le robe perché tutti i progetti che sono in cantiere adesso resteranno nel cassetto perché chi doveva fare la ferrovia chi doveva rifare l'ospedale chi doveva fare la scuola chi doveva fare comprare gli autobus elettrici fatti un esempio che servono per l'inquinamento eccetera diranno non ci sono più quando io vedo la televisione e vedo gli ambulanti i pompieri i carabinieri i poliziotti gli infermieri i medici quelli con lo scafandro che non sai chi sono sotto lo scafandro che c'è però sono tutti ammascherati e quelle sono tutte persone da pagare cioè quelle persone ma tra l'altro Luigi dico una cosa poi è chiaro che vorrei lasciare l'ultima parola Emanuela perché ha anche delle notizie sulle risvolte allora tanto diciamo che è anche morto un operaio alla Spezia perché è crollato un silos ed è crollato in maniera diciamo così dovuta alla decadenza alla penura esatto c'è una situazione dove le strutture e anche i lavoratori soprattutto i lavoratori quelli che si trovano a fare gli operai rischiano ogni giorno la vita perché ormai le strutture sono assolutamente però esistono anche delle strutture che non sono materiali che sono legate alla cultura alla socialità al creare comunque delle possibilità di andare avanti Churchill quando c'è stata la guerra durante la guerra ha detto chiudiamo quasi tutto ma teatri e cinema no perché non vogliamo togliere la speranza ai nostri concittadini e beh ragazzi devi dirlo Churchill voglio ricordare che nella seconda guerra mondiale la città di Milano una delle prime cose che ha fatto è la costruzione della scala di Milano ed era una città completamente distrutta eppure la popolazione ha investito sulla costruzione non di un teatrino di un imponente teatro quindi anche come dire e quindi questo significa quanto una società che basa la propria ripresa sulla cultura è una società viva e attiva altrimenti sarà una società paschile quindi probabilmente molto debole per reagire a quello che la storia ci offrirà certo e tra l'altro anche il piccolo di Milano Paolo Grassi e Streller due ragazzi giovani ex attori entrambi lo aprirono anche per dare un messaggio forte e diviene il teatro della città e ora il teatro d'Europa allora Manuela questo incontro con l'assessore che frutti ha portato quali sono i prossimi passaggi per questo movimento nato spontaneamente allora l'assessore siamo usciti dall'ufficio dell'assessore cavo che è stato un dialogo quindi intanto l'abbiamo ringraziata perché insomma c'è stata la volontà di dialogare questo non è meno male meno male finalmente mettiamola c'è stata molto vicina che è il 17 di novembre di nuovo in presenza quindi anche questo in questi tempi avere una riunione in presenza non è poco direi dove appunto sì come dire ci stiamo attuando perché eravamo rimasti a luglio il 28 di luglio siamo rimasti lì poi sono state fatte delle cose sia chiaro però era tra le elezioni non c'era risposta da chi è seduto su quelle sedie per tanti motivi giusti non giusti non voglio neanche entrare nessuna critica politica non è questo però adesso c'è una situazione pesante per tutti per tutte le varie categorie ovviamente io porto la voce me come altre i rappresentanti stamattina eravamo entrambi a camminare lì per ricordare i lavoratori dello spettacolo quindi il 17 di novembre c'è di nuovo un incontro con l'assessore Cavo dove appunto ci si adopera si sta adoperando attivamente per iniziare a concretizzare quello che è stato detto il 28 di luglio questo non so i tempi chiaramente non dipenderanno da me parliamo di cose molto grosse di quelle situazioni dove la regezione di un fondo capire come darlo a chi darlo ecco intanto con i tabulati dell'exempas in mano dove ci sono sono iscritti tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo quanti siamo in Liguria l'Inps lo saprà quanti siamo in Liguria che si prendono questi tabulati c'è la somma c'è un libretto EMPAS c'è un libretto EMPAS per ogni lavoratore professionista c'è un libretto EMPAS ecco quindi alla cifra ovviamente non posso rispondere quanti siamo sono risposte che nessuno io non posso come singola cittadina può fare un sindacato può farlo un assessorato e dire quanti siamo realmente non sono io che Emanuela Rolla dice quanti siamo in Liguria lo posso dire a un tavolo davanti a un caffè con Raffaele secondo me Raffa siamo 2000 1500 3000 non lo so 4000 non lo so ma c'è l'Inps quindi c'è un edificio un ente pubblico che sa esattamente quanti siamo primo passaggio avere questi tabulati quindi 17 di novembre quando torniamo da lei perché lei avrà stampato quei tabulati non che l'ha chiesti a noi lei prende questi tabulati e le conterà quanti siamo certo e tanto tra i tecnici tanto tra i tecnici solo in Liguria ma a Genova io ho una cifra che veramente in Liguria 7000 7000 tecnici e operatori del dietro le quinte è tanto perché pensiamo che sono numeri da 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 fincantieri sono numeri importanti nel senso che la fincantieri la vedi no la vedi lì lavorano 2000 persone le vedi entrare uscire tutti i giorni eh nel comparto dello spettacolo molto spesso i lavoratori sono eh dietro le quinte sono al buio magari uno vede un monologo e dice bravo quell'attore eh peccato che dietro a quell'attore ci sono 5 6 persone e anche 10 se vogliamo chiedetegli all'assessore di non fare non fare la media degli stipendi è perché tra i lavoratori e lo spettacolo ci sono anche i calciatori che guadagnano cifre pazzesche no? no no sì no eh però è vero che lei in forza la pagano anche i calciatori è vero vero però hai capito poi dicono vabbè Cristiano Ronaldo prende 30 milioni Emanuele Arolla prende eh 3 mila euro al mese adesso lo dico e sono 36 mila euro l'anno fanno fanno le medie del pollo di Trilussa e dice state bene tutti e due no lui sta bene io ogni tanto se lo ricordano dai guarda io la mano è talmente brava che un io penso che un assessorato una regione voglio dire possono solo seguire anche delle vendicazioni come ha seguito il governo potranno rifarsi su un decreto il decreto rilancio per esempio quello delle sette giornate perché di certo non posso dare io una modalità di distribuire dei soldi e neanche vorrei questa responsabilità ma magari dico io sì e tu no ma no ma che non siamo mica noi qua che fanno queste cose quindi è un assessorato che ha il compito di stabilire insieme ai sindacati e a tutto quanto come poter distribuire i soldi che ci sono a disposizione quanti sono non lo so quali sono non lo so si parla di fondi europei FSE non è che parliamo di una cifra che andremo in vacanza alle Maldive per sette mesi no si parla di di traghettare e il laboratorio nella vita e nel futuro di questo comparto sicuramente sicuramente loro insieme agli operatrici gli operatori dello spettacolo possono stanziare creare dei progetti dei bandi perché le risorse ci sono e saluto tutti con un saluto che è di Gianni Hue che è il primo esercente culturale teatrale che ha aperto in Liguria e siamo stati con Gianni ciao Gianni ciao Gianni allora dai lui dice ciao a tutti siete oltre ma noi andiamo oltre Gianni non diciamo ce la faremo diciamo niente diciamo che lavoriamo lavoriamo ogni giorno ciao a tutti allora grazie merda 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 grazie grazie ciao ci vediamo ciao ciao ci vediamo lunedì ciao